La manifestazione quest'anno è arrivata all'undicesima edizione e si terrà il primo settembre all'area concerti del Parco Fluviale di Teramo alle ore 20 e 30. Vedrà come ospiti Alessandro Preziosi che presenterà uno spettacolo molto importante, molto bello su Totò, che infatti insieme al chitarrista Daniele Bonaviri presenterà appunto Totò oltre la maschera. E poi ci sarà anche un altro artista che è Setac, un cantautore pennese che attraverso un percorso musicale internazionale canterà in dialetto abruzzese. Quest'anno la devoluzione del ricavato sarà destinata appunto al Mensa Multapaucis di Teramo, proprio perché abbiamo sentito l'esigenza quest'anno di individuare un destinatario che avesse davvero bisogno e abbiamo notato che questa associazione che dà un servizio molto importante che è appunto quello della Mensa, le famiglie più bisognose, era in difficoltà diciamo perché in virtù di quello che è stato un periodo appunto pandemico anche abbastanza complicato. E quindi mi invitiamo come sempre a partecipare perché anche la singola partecipazione significa contribuire a questo progetto. Mi invitiamo a partecipare quindi il primo settembre all'area concerti e ad acquistare il biglietto sulla piattaforma di CiaoTicket in tutti i punti vendita autorizzati. E ovviamente vi ricordo che è necessario il Green Pass per poter partecipare.